A proposito di 2024 ragazzi voglio farvi tantissimi tantissimi auguri di buon anno andando però a vedere che cosa è successo oggi la classifica finale di questa puntata di top 10 posizione numero 10 per i get down services con evil on tap come leggete nella sovraimpressione posizione 9 per i finogans wake blue skies alla 8 indian askins i like boys numero 7 nadine shah con topless mother numero 6 enola looking back i siogren alla numero 5 per new rules e poi dualipa alla posizione numero 4 di questa top 10 con la sua udini il podio è composto dai voxtrot con another fire alla posizione 3 cosa di cui sono molto contento perché era una band che si era addirittura sciolta come vi raccontavo nella presentazione di questa playlist a inizio mese c'è un aneddoto molto interessante andatevelo a ripescare se vi interessa conoscerlo posizione numero 2 come avete appena sentito per heller con free e al primo posto ancora ruth ladret con shoot me down insomma avete capito insomma lei molto